Buongiorno a tutti, nel video di oggi vi presentiamo le funzioni standard e le funzioni avanzate della nuova stazione saldante ACCO FX888DX. Il modello DX è il successore del modello D. La principale differenza sta nel fatto che nel predecessore c'erano due pulsanti per la regolazione della temperatura, mentre in questo c'è la regolazione della temperatura tramite una rotella ad encoder molto affidabile. Intanto, proprio per iniziare con le funzionalità standard, alla prima accensione la stazione saldante è impostata a 350 gradi. Basterà girare la rotella, premere il pulsante per farle aumentare la temperatura. Qui c'è un indicatore rosso che rimarrà fermo fino a che la temperatura sale, lampeggia quando è arrivata in temperatura e poi si spegne. Questa appunto è la modalità standard. La stazione ha due modi di lavoro, una standard come abbiamo appena visto e una con i preset di temperatura. Per accedere ai preset di temperatura è necessario andare nella parte dei setting. Per andare nella parte dei setting bisogna spegnere la stazione, tenere premuto il pulsante, accendere la stazione e vediamo che inizieranno a lampeggiare dei numeri. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 impostazioni disponibili. Intanto la prima ci consente di cambiare la unità di misura da gradi centigradi, 3 gradi centigradi e gradi Fahrenheit. La 3 ci permette di impostare un allarme di temperatura, allarme sotto il quale andiamo ad impostare una soglia di temperatura che è regolabile da 150 gradi a 30 gradi. Sotto tale soglia la stazione emetterà un suono, emetterà un suono perché ovviamente vuol dire che per la nostra operatività non va bene. Il setting 11 è quello che ci permette appunto di cambiare l'impostazione di funzionamento della stazione, quindi da normale e quindi con la regolazione di temperatura punto punto tramite la rotellina a preset. I preset sono 5, infatti vediamo 2 preset, 3 preset, 4 preset, 5 preset. In questo caso vuol dire che noi possiamo andare a definire da 2 a 5 preset. Adesso per esempio impostiamo 2 preset e saltiamo al punto 23. Punto 23 in cui andiamo ad impostare la temperatura che vogliamo avere per i preset. Quindi per esempio nel P1 andiamo a mettere che vogliamo, che ne so, 365 gradi e nel P2 andiamo a dire che vogliamo mettere 400 gradi. do ok, tengo premuto, accetto i cambiamenti, se spengo la stazione, accendo la stazione, vediamo intanto che la prima temperatura non è più 350 ma è 365 perché è il preset 1. attendiamo che la temperatura vada a regime e dopodiché vi farò vedere che girando la manopola non ci sarà più la temperatura ma preset 1 e preset 2, quindi preset 1 365 gradi, preset 2 400 gradi, mi basterà premere il pulsante che la stazione velocemente raggiungerà la seconda impostazione di temperatura. Tornando ai nostri setting, uno dei settaggi più di frequente richieste è come resettare la stazione. La stazione si resetta andando nel setting 25, basterà premere, selezionare con quale unità di misura vogliamo resettare la stazione, premiamo enter, andiamo su sì e in questo modo la stazione è totalmente resettata, quindi nel caso c'era una password l'abbiamo tolta, nel caso c'erano i gradi Fahrenheit, gradi centigradi l'abbiamo sistemata, siamo tornati in modalità standard, normale, quindi non più con i preset e soprattutto nel caso fosse stato aggiunto un offset di temperatura per la punta, a questo punto l'abbiamo eliminato. Parlando di offset, torniamo a vedere gli ultimi due setting importanti, il primo è il punto 14, dove la possibilità da 0 a 1 e poi con tutta una sottocategoria di numeri, di andare a impostare il blocco della stazione tramite password, quindi posso tenerla totalmente sbloccata, posso bloccarla totalmente, posso mettere un blocco parziale, posso mettere un blocco di preset, un blocco di temperatura e così via. Ultimo non ultimo, adesso facciamo prima a spegnere e ritornare dentro, c'è il punto 31, nel quale possiamo andare ad aggiungere un adjustment, quindi andare a correggere la temperatura, ma come faccio ad andare a correggere la temperatura? Per correggere la temperatura ho bisogno di un termometro esterno, quindi io per esempio prenderò la mia stazione saldante, andrò a toccare la punta del termometro e andrò ad impostare la temperatura che mi aspetto, quindi che ne so 400 gradi, metti che io leggo 390 gradi, 395 gradi nel termometro, potrò andare ad aggiungere un offset di 5 gradi alla stazione, questo succede magari anche per andare a calibrare punte particolari. Per questo video è tutto, vi consiglio di andare sul sito Butterfly per acquistare la vostra stazione saldante o per scaricare tutta la documentazione necessaria, grazie, alla prossima, ciao!